Ma per fortuna il calcio è contro tendenza perché come state seguendo in questi giorni noi siamo alle prese con i titoli televisivi che riguarderanno il triennio 2015-2018 come una grande guerra e da questo punto di vista i segnali che vengono se anche naturalmente non sono scenari esaltanti però il calcio credo che sia una delle pochissime industrie in questo momento e la sua fatturabilità è in chiara recessione come accade per tutti gli altri settori e questo ce la dice lunga su quanta sia la passione con cui i nostri clienti che poi è brutto chiamarli così perché dobbiamo chiamare tifosi ci seguono quindi tifosi del calcio